Noi volevamo dedicare un minuto al nostro compagno di squadra che è Alberto, lo sapete, non vogliamo entrare in merito alle scelte della società, noi più rappresentati volevamo esprimere il nostro pensiero. Il nostro pensiero, che è il pensiero di tutta la squadra, è quello di star vicino comunque in questo momento a Alberto, perché è un ragazzo che si è sempre comportato bene dentro e fuori dallo spogliatoio, è anche un amico, siccome noi abbiamo fatto comunque del gruppo una parte importante, se non fondamentale, della stagione, ci tenevamo a prendere questa posizione, come ha detto bene Gigi, senza entrare nel merito comunque di quelle che sono le scelte della società. Questo è un pensiero che rivolgiamo esclusivamente a un compagno di squadra che per noi è comunque sempre stato importante, fuori e dentro lo spogliatoio. Semplicemente volevamo rivolgere questo pensiero anche in virtù del suo comportamento che è sempre stato stra-positivo e basta. Con questo diamo il benvenuto pure a Fabiano Santacroce, che da oggi diventa il nostro componente di squadra e ci darà sicuramente una mano a raggiungere l'obiettivo.